Il corso Leader in Azione, Trasformare la gestione in leadership visionaria, offre un approccio pratico e riflessivo per sviluppare una leadership consapevole e strategica. Tra i suoi punti di forza vi è l'esplorazione approfondita delle competenze relazionali e comunicative, fondamentali per evolvere da manager a leader ispiratore. In un contesto di cambiamento continuo, il corso aiuta i partecipanti a rafforzare la propria capacità di motivare e guidare i team, risolvere conflitti e gestire le crisi. Fornisce strumenti per scegliere il tipo di leader che si desidera diventare, piuttosto che lasciare che le circostanze definiscano il proprio ruolo. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale, nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.